I giornalisti si comportano come dei robot. Il video di oggi è un video non di diffamazione, perché io non voglio creare reati, non voglio avere problemi con la giustizia. È un video però di critica. Una critica razionale rivolta al mondo dei giornalisti. Prima di venire al discorso, tengo a specificare che non ce l'ho contro i giornalisti, sono un'ottima categoria che fa informazione sociale, informazione politica, informazione generica, ma sappiate che non è che odio, ma provo un sentimento di forte rabbia nel momento in cui vedo in tv giornalisti da astrapazzo, io così li definisco, che si mettono in condizione di farsi odiare. Perché? Per quale motivo? È presto detto, veniamo all'esempio pratico, palese, concreto. Ci troviamo al 2009, c'è stato il terremoto dell'Abruzzo. Vi ricordate, no? Ci sono state un sacco di persone che hanno perso miseramente la vita, sfollati, persone che non avevano di che mangiare, di che bere, perché l'acqua non era potabile, che si ritrovavano senza un'abitazione. E lì non tutti i giornalisti, ma molti, secondo me, si sono rivelati degli autentici robot. Ma il comportamento dei giornalisti molto spesso è questo, è come quello dei robot. Perché? Perché lì sono arrivati questi giornalisti e fuori da uno di questi container, dove queste povere persone erano, voglio utilizzare l'imperfetto indicativo, a trovarsi, andavano lì a chiedere, ma come sta lei? Come sta? Ma ha ancora una casa? Ma come si trova ora in questo container? Ma come si sente dopo il terremoto? Come sta ora? Dopo il terremoto? Come sta? Sta bene? Ecco, queste sono domande che io, se fossi un giornalista, non mi metterei mai nella condizione di chiedere, di fare, di porre. E invece c'è il senso vuoyeristico a creare. Chiamiamolo lo scoop sul nulla. Cioè sul nulla il giornalista ci vuole creare il cosiddetto scoop. Ma non sai che... Senta, ma lei come sta, no? Magari c'è una persona lì, no? Una persona che è riuscita a sopravvivere, a scampare magari da una strage, no? Ecco, arriva subito il giornalista. Eh, ma lei come sta? Come si sente ora? Come sta? Come sta? Sta bene? Come sta? Domande veramente che io, se fossi un giornalista, ripeto, non andrei mai a fare, perché sono domande che io reputo inopportune, stupide, inutili, superfue. Ma come? Vai a chiedere ad una persona che sta male, perché sta male, no? Si vede, si capisce. Oppure quando magari quella persona sta veramente male, si vede che magari ha riportato anche dei graffi, no? Magari lo hanno rapinato, si trova in ospedale e arriva il giornalista. Questa è una cosa comica, io la chiamo una situazione tragicomica, no? Arriva il giornalista da quella persona che purtroppo è vittima di un borseggiatore o di una borseggiatrice e il giornalista da Strapasso chiede a quella persona, ma come sta? Ma cosa è successo? Ma ora come si sente, no? E quando si vede questa persona che ha tutto il volto tumefatto o in parte tumefatto e si ha il coraggio di chiedere come sta, cosa farà dopo, dopo cosa vuole fare dopo la, dopo che uscita questo ospedale? Ma come sta? Vedo che, non lo so, non si capisce come sta, come sta per caso lei? Ma come? Come sta? Ha tutto il volto tumefatto, pieno di graffi, pieno di lividi, pieno di escoriazioni e vai a chiedere a quella stessa persona lei come sta? Ma porco di quel Giuda, porco, ma porco di quel Giuda ballerino, come si diceva nel simpaticissimo fumetto Dylan Dog, no? Giuda ballerino, lo diceva quello coi baffetti, Grosho, non ricordo come si chiama, ma Giuda ballerino, ma come cazzo fai tu, giornalista, a fare una domanda del genere ad una persona che si vede che sta male, perché ha riportato delle scoriazioni, ha riportato delle tumefazioni, dei lividi, che sta veramente a pezzi? come sta? E lì, e lì veramente mi sali il sangue al cervello e vorrei prendere quel giornalista e dargli un calcio lì dove non batte il sole, perché veramente si meriterebbe un bel calcio assestato bene, però non si può fare, non si può fare chiaramente. Però io reputo una domanda del genere, davvero domande, stupide, superflue, assurde, paradossali, utopiche, che io non mi sognerei mai di fare, anche se fossi un giornalista. Qualcuno potrebbe dirmi, caro conoscitore italiano, mi sa tutto bene, ma il lavoro del giornalista è questo, se no il lavoro del giornalista non sarebbe più questo, deve fare domande scontate, stupide, strane. E no bello mio, e no bella mia, perché? Perché tu puoi fare il cosiddetto scoop anche facendo domande diverse. Viva il Dio, abbiamo la parola, abbiamo un cervello, possiamo ragionare, possiamo riflettere, possiamo sfruttare questo cazzo di cervello come Cristo comanda, e invece no. Si vanno a fare domande del cazzo, domande di merda. Domande che Pino Scotto, il grande Pino Scotto, il grande rocker italiano per eccellenza, direbbe, ma che cazzo vai a chiederti? Ma io ti piscio in culo, io ti piscio in bocca. Così Pino Scotto direbbe, no? Io non uso parole più forti, mi rendo conto che sono stato volgare, chiedo scusa subito al mio pubblico, ma quando penso a certe cose il mio cervello si incazza a bestia, come direbbe Michael Righini, e veramente mi viene voglia di fare una rivoluzione, una rivoluzione che parte dal basso e si diffonde a coinvolgere il più largo numero di esseri umani presenti su questo pianeta, presenti su questo paese d'Italia. Ripeto, io non ce l'ho contro i giornalisti, perché io apprezzo tutti, io non odio nessuno, anche la persona a cui io sto antipatico per me può essere, può diventare addirittura, zardo a dire, il mio miglior amico. Però non ci sto quando vedo i giornalisti, non tutti, ripeto, alcuni che veramente fanno domande che non possono trovare un accoglimento da parte mia. E detto questo, vi ringrazio infinitamente, in primis per la visione di questo video di oggi, di questa sera, il secondo, spero il relativo ascolto, gli iscritti stanno crescendo, sono non felice ma felicissimo, continuate a iscrivervi, fate iscrivere i vostri amici, condivide questo video su Facebook, su Twitter, dove volete voi. Facciamo sì che la mia voce arrivi a chi vorrebbe dire a determinati giornalisti, cambiate mestiere perché non siete adeguati a fare questo lavoro. Ripeto, termino dicendo, gli giornalisti fanno un ottimo lavoro, ma i giornalisti secondo me possono migliorare facendo domande diverse e non facendo domande banali. Perché come i robot si comportano, perché non hanno una loro, pure quando intervistano, stanno lì con il microfono in mano, proprio nemmeno si cagano, chiano davanti, no? Stanno lì come i robot, cosa ha fatto signora? Ci vuol dire come si sente ora, ma come fa ora? Cioè proprio non hanno una minima, un minimo di elasticità mentale. Attenzione, non tutti, quindi non è che io sono un giornalista, mi sento toccato da questo ragazzo che mi ha toccato nel profondo, no? Io non sto parlando di te, io sto parlando secondo la mia opinione di molti giornalisti, ma non tutti. Tu potrai anche essere un ottimo giornalista, un eccellente giornalista e non sei come molti giornalisti di oggi che io definisco da strapazzo. A voi un saluto caro, da conoscitori italiani, una buona serata.